Ciao a tutti, sei comportamenti che spaventano gli uomini. Prima di affrontare questo tema iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al mio nuovo canale Crescita Personale con Massimo Terramasco del quale ti posto il link qua sotto, canale dove tratto crescita personale nella sessualità, nell'amore, nell'autorealizzazione, anche con video motivazionali e ti ricordo inoltre il mio seminario online che farò su questo canale martedì 5 maggio dalle ore 20.30 alle 23 sulla legge dell'attrazione. Per partecipare devi andare sulla home page del canale alla voce abbonati e che il tastino a fianco al tastino iscriviti scegliere teleabbonamenti seminario online e poi il seminario resterà sul canale per un mese quindi avrai tutto il tempo per vederlo ci fosse quel giorno che lì magari non riesce oppure vuoi rivederlo, insomma, c'è tutta la possibilità di questo mondo. Bene, veniamo al tema. Quali sono i sei comportamenti che fanno scappare un uomo? Allora, il primo comportamento è quello di farti percepire come una sfruttatrice, cioè un'approfittatrice, una che prende in giro. Ora, gli uomini magari sarebbero anche disposti a dare ma quando si rendono conto che sei una che invece lo marca palesemente, diciamo, a parte quei pochi sfigati che se ti vuoi prendere, che però non avrebbero niente da dare di fatto perché essendo veramente sfigati non potrai ottenere nessun risultato positivo, diciamo. Non potrei ottenere nessun risultato positivo per cui se farti percepire come sfruttatrice ad esempio ci sono donne che magari anche così messaggiando dicono io cerco uno che mi mantenga io voglio uno che mi mantenga allora, il fatto che tu vogliono che ti mantenga non ti dà nessuna garanzia di trovarlo anzi, più ti manifesti questa parte più li metti in fuga li metti in fuga e diventa proprio un qualcosa di estremamente negativo le vere seduttrici sono quelle che fanno percepire tutto il contrario il secondo comportamento è un comportamento eccessivamente distaccato anche qua il distacco può essere utile io sono un fattore ovviamente del no contact l'inventore direi ma serve quando è necessario farlo quando non è necessario quando dall'altra parte non puoi innescare sensi di colpo o cose di questo genere beh, allora è negativo è negativo e può mettere in fuga soprattutto se non hai ancora acquisito il giusto potenziale il terzo comportamento è esattamente l'inverso anche troppo attaccamento mette in fuga se sei appiccicosa se sei sempre lì a fare l'appiccicosa appunto metti in fuga spaventi non c'è verso gli spaventi di uomini in quel modo lì troppo attaccamento mette in fuga il quarto comportamento eccessivamente negativo che mette in fuga è presentarti come bisognosa cioè come non indipendente cioè quindi come una che ha bisogno bisognosa ripeto come strategie a breve termine possono anche andare possono anche dare dei risultati ma a lungo termine sono sicuramente delle strategie che non portano a nessun risultato anzi portano esattamente ad allontanare il maschio quinto comportamento che non devi mettere in atto è praticamente avere un comportamento mascolino cioè un atteggiamento mascolino sia nell'abbigliamento sia nella camminata nel modo di fare sia nel rapportarti con questa persona insomma quello che attrae l'uomo è l'inverso della di ciò che è se stesso la femminilità è il contrario della mascolinità quindi bisogna devi identificarti perfettamente nel tuo ruolo di donna e di femmina quindi negli atteggiamenti nell'abbigliamento femminile nel modo di fare più gentile più materno più protettivo più morbido gli altri comportamenti mediamente non non piacciono e sesto comportamento questo l'ho lasciato per ultimo ma in realtà è uno dei più importanti è volere una relazione istantanea cioè appena ha conosciuto uno gli fai subito intendere che tu vuoi una relazione seria che tu vuoi che ne so tanti bambini matrimonio fidanzamento conoscere i genitori eccetera questa è la cosa veramente peggiore che tu possa fare cioè manifestare logicamente mettere questo vincolo logico all'inizio così è veramente il bacio della morte della seduzione veramente il canto del cine della seduzione negativo al 100% mai 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 perché lo lo metti in fuga lascia qua sotto nei commenti cosa ne pensi quali sono gli atteggiamenti che tu hai avuto e che hanno funzionato con gli uomini e quali sono gli atteggiamenti che invece hai avuto e li hanno messi in fuga scrivilo nei commenti così si può dar via ad un dibattito ad un confronto e vedere un attimino di generare un contributo positivo per tutti ti ricordo di iscriverti al canale seguirmi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e iscrivete al mio nuovo canale crescita personale con Massimo Taramasco nel quale trovo il link qua sotto che secondo me è un canale che ti piacerà molto e dove appunto tratto la crescita personale nella sessualità nell'amore nelle autorealizzazioni e ti ricordo il seminario online per partecipare il seminario online sulla legge di attrazione che farò martedì 5 maggio dalle 20.30 alle 23 per partecipare devi andare sulla home page del canale e tastino abbonati affianco al tastino iscriviti e scegliere come abbonamento quello seminari online per questo video è tutto ti do appuntamento al prossimo ciao